Gli aiuti per le aree interne. La Regione chiede al Governo di calibrare al meglio le risorse destinate alla Toscana dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Una mostra per ricordare l'alluvione del 1996 in Versilia e Garfagnana, la presentazione dell'iniziativa a Palazzo del Pegaso. Buonasera, ben ritrovati a Monitor Consiglio. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità una risoluzione con la quale si chiede al Governo di indirizzare un adeguato livello di risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per lo sviluppo delle aree interne, almeno proporzionale al peso che tali territori rappresentano complessivamente per la Toscana, ovvero circa un terzo dell'estensione complessiva del territorio regionale. Sentiamo l'illustrazione di questa risoluzione dal Presidente della Commissione competente, Marco Nicolai. Sentiremo poi un rappresentante dell'opposizione, Francesco Torselli, di Fratelli d'Italia. Il Recovery Plan è un'opportunità storica per il nostro Paese, ma è un'opportunità storica anche per affrontare il tema della diseguaglianza tra i territori, tra i centri urbani e le aree più periferiche. Da questo punto di vista il Recovery e l'esame che abbiamo fatto in Commissione presenta molte opportunità. Il Piano Nazionale dei Borghi, la questione della connettività, il rilancio dell'attività turistica, un nuovo modello di sanità territoriale. Noi, per raggiungere questi obiettivi e per intercettare queste risorse, abbiamo innanzitutto delineato per la Giunta regionale un obiettivo. Se in Toscana, nelle aree interne, è concentrata un terzo della popolazione regionale, l'obiettivo che ci dobbiamo porre è che un terzo delle risorse che arriveranno in Toscana dal Recovery Plan siano destinate alle aree interne. È un obiettivo ambizioso, ma è un obiettivo necessario. E per raggiungerlo abbiamo delineato due obiettivi di medio termine. Il primo, la Regione si deve strutturare per dare una mano ai Comuni, perché senza progetti non si intercettano i finanziamenti. Quindi noi chiediamo alla Giunta, al Presidente, di strutturare un'unità di missione, un coordinamento che faccia da punto di riferimento su questi temi in Regione per le province e i Comuni della Toscana, ma anche per i progetti che dovrà presentare la Regione. L'altro, se i Comuni, e soprattutto i più piccoli, ci dicono che abbiamo difficoltà di bilancio nel finanziare l'attività di progettazione, questi Comuni rischiano di essere tagliati fuori da questa opportunità. E quindi occorre, come Regione, mettere in campo un fondo per sostenere l'attività di progettazione, perché queste risorse non è che verranno paracadutate sui territori, verranno intercettate dai territori se ci saranno dei progetti. E quindi noi dobbiamo mettere in condizione la Regione e gli enti locali di avere progetti chiari, definiti e avanzati per poter intercettare questa opportunità che veramente è di portata storica per il nostro Paese. Il Consiglio regionale ha approvato una risoluzione che chiede di investire parte dei soldi che arriveranno dal Recovery Fund in Toscana anche nelle aree interne della Toscana. Mi fa piacere che all'interno di questo documento sia stata recepita una proposta del collega Veneri e del gruppo di Fratelli d'Italia che chiedeva di investire anche per il superamento del Digital Divide. Io continuo a sostenerlo da tempo, una Regione degna di tale nome che vuol guardare al futuro, vuol pensare di affrontare le tematiche importanti del futuro non può pensare che ancora oggi esista all'interno del proprio territorio esistano aree differenti da un punto di vista della copertura digitale. Oggi siamo in una situazione per la quale due bambini che nascono oggi, che vengono alla luce nello stesso istante, uno che nasce in una città importante, e uno che nasce in un comune, magari montano, magari di qualche area interna, per tutta la vita avranno opportunità differenti. Non avranno le stesse opportunità, non potranno mettersi in gioco alla pari sfruttando le stesse opportunità. E questa è un'ingiustizia che non può essere accettata in una Regione che guarda al futuro. Siccome i soldi del Recovery Fund non sono soldi che ci vengono regalati, e questo è bene che anche i nostri colleghi della maggioranza se la mettono bene in testa, perché abbiamo sentito tante volte dire che abbiamo questi soldi da spendere. No, abbiamo questi soldi da investire, perché 360 miliardi dei 750 che arriveranno andranno restituiti all'Europa da ora al 2058. Quindi o si fanno investimenti che da ora al 2058 riportino sul territorio dei fondi che servono poi a restituire anche questi soldi, oppure ci andremo a indebitare. E quello che oggi sembra un regalo, un domani potrebbe diventare un incubo. Cambiamo argomento. È stata approvata dal Consiglio regionale una proposta di risoluzione che esprime apprezzamento per l'attività svolta e i risultati conseguiti dalla garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Giuseppe Fanfani nel corso dell'anno 2020. L'atto ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza, mentre Lega e Fratelli d'Italia hanno votato contro, il Movimento 5 Stelle si è astenuto. Sentiamo le interviste. Il dottor Fanfani, il nuovo garante per i detenuti della regione toscana, ha illustrato nella prima commissione l'attività nell'anno 2020, mettendo in luce tutta una serie di aspetti importanti collegati al sistema carcerario detentivo della nostra regione. Lo ha fatto evidenziando come la Toscana sia nella media nazionale quanto al tema dell'affollamento degli istituti penitenziari. Ci sono alcuni istituti penitenziari sovraffollati, altri invece che sono in ipoaffollamento, però la regione toscana rientra nella media nazionale. Si è molto riflettuto anche sulle due residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, le due REMS che abbiamo in Toscana, quella di Volterra e quella di Empoli, e anche di tutte quelle misure che vengono adottate anche in altri luoghi di detenzione che sono restrittive della libertà personale. Si pensi soprattutto ai servizi che operano il contenimento collegati ai TSO, ai trattamenti sanitari obbligatori, o ancora alle RSA o le RSD quando diventano comunque luoghi nei quali viene scontata una pena. Tutto questo ha bisogno anche di dotazioni adeguate. E infatti nella relazione resa dal garante c'è un'attenta disamina anche delle condizioni strutturali degli istituti penitenziari della regione toscana e anche degli altri luoghi di detenzione, come ad esempio le camere di sicurezza istituite presso le forze dell'ordine. Un rilievo particolare merita la figura del garante per i detenuti a livello comunale. C'è un invito da parte del garante regionale a far sì che tutti i comuni indichino il loro garante comunale per garantire al meglio l'operatività e il raccordo tra i livelli locali e il livello regionale. Il Consiglio regionale ha approvato la risoluzione che esprime apprezzamento per l'attività svolta dal garante nell'anno 2020 e ha assunto anche l'impegno di dotarlo delle strutture necessarie per rendere effettivo lo svolgimento della propria attività. Il garante detenuti è una funzione importante che noi sosteniamo. Un'iniziativa importante è quella di tutelare coloro che sono nelle carceri. Ricordo bene un lavoro svolto negli anni precedenti quando anche da Presidente della Commissione di Sanità ho introdotto e agito per tutelare la condizione di salute e di vita di coloro che sono detenuti nei nostri carceri con delle visite costanti ma anche con iniziative e questo lavoro sta proseguendo e credo che sia un dovere delle istituzioni toscane essere presenti anche nelle carceri e ricordo la questione del carcere di San Gimignano dove siamo stati in grado fondamentalmente anche dal nostro osservatorio di incidere rispetto al ripristino le condizioni anche di legalità all'interno delle carceri. Quello che noi abbiamo contestato alla relazione del garante per i detenuti è il continuare a voler interpretare il rapporto tra istituzioni e carcere soltanto parlando con una delle due anime che vivono e che devono convivere all'interno del carcere. Noi abbiamo chiesto al garante di impegnarsi di più sul fronte anche dei rapporti con la Polizia Penitenziaria che oggi sono completamente assenti e leggere che un garante dei detenuti operi soltanto in una direzione e non coinvolgendo entrambe le anime che per la vita del carcere non perché siamo a giocare una partita di calcio e ci sono due squadre differenti ma i carceri, abbiamo visto anche quei casi di malfunzionamento che abbiamo avuto negli ultimi anni funzionano quando le due anime quindi quella dei detenuti e quella degli operatori di Polizia Penitenziaria convivono all'interno e si aiutano anche reciprocamente nella vita del carcere. Il garante noi lo interpretiamo come una figura che vada ad avvalorare questa cooperazione e non che faccia l'avvocato difensore di una parte contro l'altra magari percependo la parte della Polizia Penitenziaria quasi come fosse una controparte contro cui dover combattere una guerra quotidiana. Non è questa la figura che a noi piace e è per questo che ad oggi non siamo ancora convinti dell'operato del garante Fanfani. Cambiamo ancora argomento una mostra per ricordare i 25 anni dall'alluvione in Versilia e Garfagnana era il 19 giugno del 1996 ma anche per sottolineare un territorio che ha saputo essere un esempio di ricostruzione. La mostra diffusa in Versilia è stata presentata negli ambienti di Palazzo del Pegaso sentiamo prima l'intervista al Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Fu una tragedia vera che segnò la vita di tante cittadine e di tanti cittadini della Toscana che ci mandò un monito forte all'epoca, quel 19 di giugno io lo ricordo perché stavo svolgendo gli esami di maturità e mi toccò profondamente dopo pochi mesi sarei arrivato a Pisa e vedere quelle immagini persone trovate morte in mare la forza della natura all'epoca sembrava un fatto casuale in realtà nel tempo ci siamo resi conto che i cambiamenti climatici hanno toccato pesantemente il nostro territorio e quello che è avvenuto nell'Alta Versilia non è nient'altro che un messaggio forte che la terra ci manda e su cui la politica deve investire di più penso a tutto quello che abbiamo fatto e che dovremo continuare a fare sul tema del dissesto idrogeologico penso alla necessità di forti investimenti anche nel PNRR in questa direzione oggi ho voluto che si svolgesse qui in Consiglio regionale questo momento di presentazione per mandare un messaggio il messaggio che questa è una delle nostre priorità su cui dobbiamo lavorare e che dal ricordo di quelle vittime c'è anche l'impegno che dobbiamo mettere in campo e adesso le interviste a due personalità che ricoprivano ruoli importanti in quel momento 25 anni fa Vannino Chiti ex presidente della regione toscana e Paolo Fontanelli che è stato subcommissario per la ricostruzione ho ricordo di una situazione drammatica di cui era difficile rendersi conto a livello nazionale parlo perché quel giorno in Italia niente diceva che ci sarebbe stata una pioggia è stato credo il primo caso di un uragano da noi di una bomba d'acqua qui da noi qui da noi in Italia e anche a pochi chilometri da dove avveniva c'era un altro tipo di tempo c'era il sole e non ci si rendeva conto le vittime e poi la fatica l'impegno della ricostruzione con un rapporto molto positivo con i sindaci con le popolazioni e con il governo nazionale tant'è che da allora si parlò a livello nazionale per affrontare questi fenomeni con la protezione civile di metodo versilia di impostazione che era stata seguita con successo La vicenda apriva una stagione di straordinarie novità perché le competenze della protezione civile non ce le avevano le regioni e quindi fu la prima volta in quella regione fu chiamata allora era sottosegretario professor Barberi all'idea di guidare il processo di uscita dall'emergenza e di ricostruzione quindi fu come dire allora per quell'epoca uno dei primi passi verso l'idea un'idea di federalismo di decentramento molto forte anche di una materia come quella della protezione civile che era sempre stata una materia con un alto grado di centralizzazione la regione si misurò con quella sfida in maniera innovativa noi aprimmo un ufficio straordinario a Pietrasanta portandoli tra alcuni tra i dirigenti migliori della regione stabilimmo un rapporto quotidiano non solo con le amministrazioni comunali i sindaci ma anche direttamente con i comitati degli alluvionati con le popolazioni insomma si diventò un punto di riferimento che permise di portare avanti un processo di ricostruzione molto complicato molto difficile relativamente in poco tempo perché in quattro anni insomma sostanzialmente fu conclusa tutta l'opera di ricostruzione e di farlo attraverso un rapporto molto intenso forte con con la popolazione c'è un processo di partecipazione democratica che dimostrò di funzionare molto bene ecco ovviamente i problemi gli ostacoli c'erano c'erano dall'inizio ci furono fasi anche difficili di polemica sull'interpretazione delle ragioni di quel disastro che diceva che era colpa della cementificazione in realtà quello che venne fuori è che quell'evento per la prima volta in Italia si parlò di una bomba d'acqua fu questo che scatenò e che ebbe un effetto distruttivo perché quella bomba d'acqua provocò le frane enormi frane dei castagneti abbandonati cioè poneva questo problema cioè che la montagna che il territorio se non è curato se è abbandonato può diventare un pericolo questo è il tema che viene fuori e sul quale ed è un tema di grande attualità perché l'Italia e la Toscana hanno grandi fragilità dal punto di vista idrogeologico e quindi sono esposte a questi rischi la lezione dovrebbe essere ancora oggi quella quindi di intervenire seriamente per evitare quei rischi consolidare dove c'è da consolidare ma anche immaginare una ripresa di attività di manutenzione del territorio e della montagna senza le quali i rischi non si eliminano Chiudiamo le nostre interviste con il sindaco di Stazzema Maurizio Verona e rimane una ferita aperta una ferita aperta perché quell'evento atmosferico ha portato via 14 persone quindi un evento straordinario come Giacchi mi ha preceduto vi ha raccontato una bomba d'acqua in una porzione piccolissima del territorio dell'Alta Versilia che ha distrutto un'intera vallata Cardoso Ponte Stazemese Ruosina fino alla foce del fiume Versilia portandosi con sé 14 vittime una delle quali non è stata mai ritrovata è stato un 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 dissesto enorme in una montagna che era una montagna antropizzata il comune di Stazzema fino a qualche decennio prima contava 7 mila abitanti oggi siamo in 3 mila abitanti il nemico della montagna non sono alcune situazioni ma è lo spopolamento e lo spopolamento avviene per un elemento semplice perché non ci sono politiche che favoriscono il permanere dei residenti nella montagna toscana italiana per esempio politiche di defiscalizzazione a favore di chi vive in montagna per esempio in questi giorni noi sindaci stiamo lottando per mantenere le scuole aperte in montagna mentre invece c'è una tendenza a chiudere le sezioni delle scuole ecco questo vuol dire distruggere la montagna vuol dire fare danni non in vita umane ma come ha fatto l'alluvione nel 96 quindi credo che se la montagna tutti la amiamo dobbiamo difenderla dobbiamo mantenere il presidio dello Stato dobbiamo veicolare in montagna risorse perché Fontanelli chiedi che sono stati due personaggi straordinari in quell'evento il presidente dell'assessore e anche Franco Barberi voglio ricordare hanno avuto un'intuizione fondamentale che è quella di portare la regione in Versilia per tutto il periodo della ricostruzione e hanno ricostruito il nostro territorio ascoltando i cittadini dalla base i comitati insieme ai professori ai dirigenti e questo forse da lì è nato il modello Versilia un modello partecipato nella ricostruzione che ha funzionato è tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata